Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito andando a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dal centro, andiamo a vedere le quattro edizioni provinciali, questa è la prima pagina di Pescara travolta sull'A14, dopo l'incidente la vittima a 59 anni di Termoli era scesa dall'auto per chiedere aiuto e questo è il titolo di apertura che riguarda la cronaca. E poi nel taglio alto il bilancio 2016 in Abruzzo scoperti dalla finanza, 186 evasori totali. Adesso andiamo all'interno, la Cassazione con le motivazioni della condanna dell'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco nel processo Sanitopoli e ancora i dati dell'Istat, un milione di famiglie senza reddito. Nelle cronache di spalla protesta in città, aria di risulta la sosta si paga anche nei festivi, ovviamente si parla della città di Pescara e poi in Montesilvano banda dei garage all'opera rubato una bici da 7 mila euro. A centropagina nella fotonotizia troviamo le lunghe code alla prevendita dei biglietti per lo stadio adriatico per le prossime partite delle Pescara. Pescara ultimo ma i prezzi sono alle stelle contro Milan, Juve e Roma. Ritoccato il costo dei biglietti la curva si vende a 25 euro. Ancora guerra dell'acqua minerale, la Santa Croce finisce alla Norda, sì all'assegnazione provvisoria. Poi la bonifica di bussi dopo la bocciatura del ricorso al TAR, Toto ne propone un alto. Nel taglio basso troviamo il buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna, i selfie di razzi, ignoriamoli per favore. Questa è la posizione di Tanna nel buongiorno Abruzzo. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del centro, adesso ci spostiamo sulla edizione di Chieti. Il bimbo autistico iscritto d'ufficio, scuola negata, il caso di Lanciano risolto dopo il clamore nazionale. Ieri c'è stato un incontro in comune fra i dirigenti scolastici, il sindaco Mario Pupillo e l'ufficio scolastico regionale in cui è stata trovata una soluzione al caso del bambino di 10 anni la cui madre aveva avuto delle difficoltà nell'iscrizione del bambino alla prima media. Torniamo adesso sul giornale per vedere le notizie nelle cronache. Vasto inseguono ladri in autostrada, agenti speronati e vedete l'auto della polizia danneggiata. Poi Chieti, Ateneo, il Miur vuole pensionare il DG del Vecchio. Ancora centropagina, in 2000 per Don Ciotti. Parte da Chieti la risposta alle scritte contro il sacerdote di Libere. Vedete la fotografia degli studenti delle 19 scuole che hanno riempito il corso maruccino a Chieti per dire no alla mafia. Andiamo ancora avanti, adesso passiamo alla edizione di Teramo del quotidiano Il Centro. Calamità, 4 miliardi dall'Europa. Brucchi esulta a Bruxelles, hanno capito le nostre difficoltà. E poi nelle cronache, a coltellata Pineto chiede i danni allo Stato per il cannibale. A Giulianova il Sindaco lascia il PD, ma per ora niente crisi di governo. E poi a centropagina Penna, il Borgo Fantasma, il paese deserto, ma rischia di restare fuori dal cratere. Vedete la fotografia abbastanza eloquente del centro storico di Penna Sant'Antrea, gravamente lesionato dal sisma. Andiamo a vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro, quella di L'Aquila-Vezzano-Sulmona. 8 mila posti di lavoro bloccati all'apertura. L'Aquila, la ricostruzione pubblica rallenta e i cantieri non partono. Andiamo ad approfondire nelle cronache. Ad Avezzano, tassa su rifiuti ridotta del 20% dal comune. a Roccaraso, maestro di sci, muore di infarto sulle piste. Si tratta di Giuseppe Petrocco. Poi il flash mob per Ovidio nella fotonotizia a centropagina. Sul Mona, animazione in piazza con gli studenti di tutta Europa. Cambiamo testata. Ora passiamo al messaggero. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Il bimbo autistico andrà a scuola. Questo è il titolo di apertura sul caso di Lanciano, risolto con la mediazione del sindaco Pupillo e il caso della mancata iscrizione del ragazzo che frequenterà l'adannunzio che peraltro frequentava e ha frequentato alle elementari. È stato un equivoco, si è detto nella conferenza stampa a termine dell'incontro. Siamo una città inclusiva. E più avanti nella seconda parte andremo a vedere proprio il servizio su questa vicenda. Poi scendiamo a centropagina. Malore fatale sulle piste. Muore un maestro di scia a Roccaraso. La vittima è Giuseppe Petrocco, abbiamo visto in precedenza, originario di Scanno. E poi Pescara colpi in serie della banda della carne. In questo articolo due furti e una rapina in pochi giorni al Conad di Via Milano a Pescara. Presi i ladri smascherati dalle telecamere di videosorveglianza. E poi sempre a Pescara, abbattimenti urgenti sotto accusa, alberi, l'inchiesta si allarga. I due dirigenti del comune indagati si dicono pronti a chiarire l'assessore Di Pietro, ma le piante erano malate. Ricorderete le polemiche per il taglio dei pini a Pescara. Andiamo invece all'Università di Chieti Pescara, l'Ateneo decapitato, stipendi in salvo all'Università d'Annunzio. Il Ministro firma l'ufficialità dal Ministero dell'Istruzione, arrivata ieri, mettendo fine le incertezze successive alla sospensione del Rettore. Andiamo a vedere di spalla le giornate del FAI. 50 gioielli in mostra per quanto riguarda l'Abruzzo. Da scoprire anche la bazia di Canzano, colpita dal sisma tra le tappe del FAI per le famose giornate di primavera. Nel taglio basso la Guardia di Finanza, appalti e furbi nel post-sisma. E' sempre la ricostruzione con l'ottenimento di fondi illeciti, appalti in odore di mafia. Il primo pensiero della Guardia di Finanza, anche nel 2016, da poco trascorso. Andiamo nel taglio alto, restando sempre alla prima pagina del messaggero Abruzzo. L'Aquila rinasce e cade un altro ostacolo lungo il cammino delle mura antiche. Poi storie e memoria, Francavilla stoppa le ruspe, vincolo in arrivo per Palazzo Sirena, che era oggetto di abbattimento da parte dell'amministrazione comunale. La missione di Sebastiani, siamo allo sport, Pescara per ora niente soldi, dalla pista latino-americana. Molti contatti con potenziali investitori, ma nessuna certezza. Mesa resta fermo al 10%, ottimismo del duo presidente Bancoschi. Andiamo ancora avanti con i quotidiani regionali. Adesso passiamo alla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Travolta è uccisa in autostrada, il titolo di apertura esce dall'auto in panne, in corsia di sorpasso, muore la madre, feriti il figlio e altri due automobilisti. Questa purtroppo la tragedia avvenuta ieri. E poi nel taglio alto, medico Teramano appassionato della schedina sbanca il totocalcio, vincendo appena 223 euro. E poi Pontile di Roseto, l'unica salvezza, il project a Tortoreto, spaccature e trasversalità verso il voto. Di spalla la scelta del Partito Democratico, Moreno Fieni verso la presidenza del BIM. E poi a Giulianova, Guido Baldi sempre più vicino a Ginobili. Poi un'altra notizia importante, quella che vedete a centropagina nella fotonotizia col titolo Mamma Europa. Bruxelles, i sindaci del cratere strappano 2 miliardi di aiuti. E su questo argomento c'è anche l'editoriale del direttore della città Alessandro Misson, onore a Bruxelles. E poi sotto la fotonotizia è iniziato il voto sugli emendamenti per il decreto sisma. Montecitorio alleggia il voto di fiducia. Nel taglio basso invece l'intervista a Mauro Tedeschini. Abruzzo troppo rinunciatario, servono grandi progetti. Così l'ex direttore del quotidiano, il centro. Lasciamo adesso i quotidiani regionali. Apriamo lo spazio dedicato al nazionale, andando a vedere rapidamente i titoli nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Allora, partiamo dal Corriere della Sera. Terrorismo stretta sui voli, allarme e sicurezza. Il provvedimento voluto da Trump, oggi anche a Roma, si decide se adeguarsi o no. Stati Uniti e Regno Unito, PC e tablet vietati in cabina a chi parte da dieci paesi musulmani. E poi nella fotonotizia il corteo Donciotti all'Ocri, ribelliamoci all'impotenza, i ragazzi e il no alla mafia. Qui siamo tutti sbirri, questo lo slogan. Per quanto riguarda la politica andiamo nel taglio alto. Bersani contro le larghe intese antipopulisti sono pronto al dialogo in diretta con Grillo. Andiamo sulla Repubblica, allarme per le bombe nei tablet vietati sui voli per Stati Uniti e Londra. Coinvolti dieci paesi arabi, temiamo attentati, allerta in Francia e Canada. E poi l'Unione Europea sia all'intesa ma è frenata sull'Europa a due velocità. Parigi, soldi alle figlie, si dimette il ministro. Questo per quanto riguarda la politica estera. E poi invece c'è un approfondimento su Roma. 17 in fumo per guasti o incuria. Ogni giorno se ne rompono 300. Il falò dei bus nella palude della capitale. Andiamo sulla stampa. Migranti intesa con Berlino e l'apertura. Il ministro dell'interno dopo il patto del vertice di Roma a lavorare per un accordo con l'Egitto. Parla Minniti, anche Austria e Svizzera hanno promesso un'apertura. A centropagina una notizia curiosa ma anche per certi versi triste e tragica. Prima vino e noccioli, ieri il parmigiano sparita a merce per un valore di 3 miliardi. Il cibo l'ultima preda dei ladri. Vedete un magazzino di stoccaggio di forme di parmigiano. Ovviamente anche i cibi pregiati arrivano ad essere mira dei malintenzionati. Di spalla le interviste, paroline Europa salva se ritorna alle origini. Così il cardinale e poi la Camusso sulle nomine poca trasparenza per quanto riguarda la posizione della CGL. Poi l'ex segretario del PD Bersani che ha fondato un nuovo movimento denominato Articolo 1 Gentiloni si emancipi da Renzi. Andiamo sul sole 24 ore ora. Banche Venete proroga per le offerte ai soci e l'apertura del quotidiano economico italiano. Verso un allungamento delle scadenze per raggiungere almeno il 70-75% delle adesioni. Dombrowski sofferenze bancarie sul tavolo dell'Unione Europea. E poi sbloccati i vecchi voucher, il Ministero serve la comunicazione preventiva. Non si fermano le polemiche su questo strumento tanto contestato. Nel taglio alto il focus l'imposta sui neoresidenti con alto patrimonio. La tassa forfè da 100.000 euro copre anche donazioni ed eredità. Ora andiamo sul fatto quotidiano. Fuorilegge, minzo interdetto e abusivo. Grasso lo faccia cacciare. Da 15 mesi l'ex direttore del Tg1 occupa il seggio in barba alla sentenza. Così il fatto quotidiano. E poi a centropagina il PD salva pure Alfano. Niente indagine sul caso. Shalabaeva tutto è perdonato. Emendamento svuota la legge sulla procedura di inchiesta. Andiamo ancora avanti. Il messaggero da Roma alla scossa. L'Europa è il titolo di apertura. Il premier Gentiloni al giornale. I trattati. Occasione per andare avanti con maggiore flessibilità. Ciascun paese con il proprio passo ma più responsabilità nel nuovo contesto. E poi la stretta per il rischio attentati sui voli. Niente tablet e pc. Sui voli arabi. Londra segue l'esempio degli Stati Uniti. Invece un'altra notizia importante è quella che riguarda il trasporto pubblico NCC. Il governo apre licenze più ampie. Taxi sul piede di guerra. Un decreto per regolamentare anche Uber. Le auto bianche pronte a bloccare la capitale. Nel taglio basso la fotografia dell'Istat sui coniugi tra i 25 e i 64 anni. Un milione di famiglie. In un milione di famiglie guadagna solo lei. E ancora le polemiche in RAI dopo l'annullamento del programma condotto da Paola Perego. L'annullamento del programma sessista. Lo stop alla Perego scuote la RAI. Via il capo struttura. Il caso presta. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. Ponti, strade, treni. Ecco lo stadio. Si tratta ovviamente dello stadio della Roma. Esclusivo il nuovo piano delle opere pubbliche per la viabilità dell'impianto a Tordivalle. Da Marconi a Fiumicino. I progetti del patto col comune. La capienza dello stadio. Sarà di 55 mila posti. E restando in tema di Roma. Totti saluta la Roma. Il capitano pronto a smettere. Potrei fare il procuratore. Ma un contratto di 6 anni con la società di Pallotta. Andiamo avanti. Libero. Fermate. La Equitalia è impazzita. E l'apertura. 5 milioni di lettere spedite per spingere gli italiani ad approfittare degli sconti per rottamare le cartelle. Ma è subito caos. In molti casi gli avvisi sono sbagliati. E le somme richieste non sono dovute. Errori o trappole? Si chiede il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Noi andiamo avanti con il mattino di Napoli. Europa a due velocità c'è l'intesa. Un compromesso alla vigilia del vertice di Roma per riavvicinare gli stati dell'est senza violare i trattati. Ma il presidente dell'Eurogruppo Dyssenblum attacca i paesi del sud e scoppia il caso. Lasciamo il mattino di Napoli e passiamo all'unità. Il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. Ma che democrazia è quella a 5 stelle? Si chiede il giornale. Nel PD è iniziato il congresso dove iscritti elettori decideranno il nuovo segretario. Nel Movimento 5 Stelle commissariano i territori e si afferma un nuovo modello di partito azienda. E poi a centropagina la fotonotizia. In piazza tanti giovani per dire no ai mafiosi. Combattiamo sempre la paura. Il secolo XIX. Il quotidiano genovese apre con i migranti. Patto con Berlino. Parla il ministro dell'Interno. Il piano di collaborazione per stabilizzare l'Africa. Minniti sull'accoglienza Austria e Svizzera pronte a fare la loro parte. Poi vedete anche qui il richiamo alla giornata contro le mafie. L'Italia in marcia contro le mafie. Andiamo sull'avvenire. Tutti sbirri contro i clan. Anche qui in apertura si ricorda la giornata di ieri e l'impegno contro la criminalità organizzata. L'Ocri 25.000 in piazza per dire no alle mafie dopo lo sfregio dell'Andrangheta a Donciotti. Ma noi amiamo la vita. Così si è detto durante il corteo. La Gazzetta del Mezzogiorno adesso. Un'agenzia per la Xilella. Si torna a parlare del caso del contagio degli alberi d'ulivo. Approvata la legge ma senza soldi. Emiliano, il governatore della Puglia, li metteremo. De Castro, fitto e gentile. Lui scarica sugli altri le proprie colpe. Questo è davvero per la Puglia e la Gazzetta del Mezzogiorno. Il quotidiano pugliese è un problema davvero davvero grande e oltretutto può costituire un problema anche per la nostra regione se il contagio dovesse estendersi nel sud Italia. Andiamo avanti con l'Unione Sarda. All'Italia c'è la crisi in pista. Prevista una nuova agitazione il 5 di aprile contro il piano da 2000 esuberi. Con legamenti in tilt la Sardegna paga un conto salato. Ovviamente i trasporti per l'isola sarda sono fondamentali. Dunque fare i puntati sulla vertenza all'Italia. E poi una notizia che riguarda lo sport. Aspettando il via libera allo stadio provvisorio, il Cagliari giocherà la prossima stagione al Santeria. Andiamo sull'ultimo giornale nazionale. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est. Arriva a Minniti, gelo dei sindaci. Immigrazione a Cona via al progetto sostenuto dal Papa per trasferire 100 profughi in Argentina. Solo in 56 su 575 attreviso per l'incontro con il ministro che promette svuoteremo Bagnoli e la Serena. Ancora scatta l'espulsione per chi si tuffa nel Canal Grande. E questa è una notizia che riguarda il Veneto. Prima di chiudere andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi nazionali. Allora, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Affari da brivido, contratti pesanti in scadenza nel 2018. Il mercato si scalda. Mertens, Donnarumma, Sanchez, Strootman, De Sciglio, De Vrai, Keita, Biglia, Medel, Goulam e tanti altri. E c'è anche Messi tra i contratti in scadenza nel 2018. Poi il focus dedicato a Verratti. Via dal PSG? Forse sì, nel futuro un top club. Il procuratore dell'Azzurro di Campli. A Parigi non si vince. Qualche dubbio che venga in Italia. E il commento è ora di farlo tornare a casa. Ovviamente tutti ci auguriamo che Verratti possa tornare a giocare nel nostro paese. Così innalzando anche il livello tecnico del campionato italiano. Passiamo sul Corriere dello Sport. Allegri, Spalletti, Sarri, Montella. Chi resta e chi lascia? Tutta la verità sugli allenatori. Allegri, Juve pronta a offrire un triennale accordo sempre più vicino. E poi Spalletti stasera a cena della verità. Pallotta lo vuole ancora alla Roma. Sarri resterà a Napoli al contratto fino al 2020. Nessuna novità in vista. E poi Montella. Il futuro dipende dal closing con i cinesi. Prima alternativa è Emery. Poi andiamo a vedere nel taglio basso un approfondimento che riguarda un giocatore del Pescara. Coulibaly, dal barcone a uno stadio di Serie A. La fuga dal Senegal. La comunità, il Pescara. Esordito domenica a Bergamo. Andiamo a vedere anche nel taglio alto perché domenica parte la stagione dei motori. Vettel rilancia. Se non vince è addio alla Ferrari. Formula 1, ultima chance per il tedesco. La sua auto è Gina. E poi ecco Dovizioso. Vale dietro a Vignale Svola. MotoGP da scoprire. Studio Lorenzo sulla Ducati. Questo per quanto riguarda la prima del Corriere dello Sport. Adesso andiamo a vedere anche tutto sport. Bernardeschi e Di Maria per restare allegri. Questo è il gioco di parole. Max Rilancia è pronta a continuare con la Juve ma chiede di prolungare il contratto fino al 2020 per aprire un nuovo ciclo. Il club è disposto ad accontentarlo. Il Viola e l'Argentino, oltre a Tolisso, sono le prime scelte sul mercato. Nel taglio alto Sotiriu il Maxi di Cipro per il Toro. Questo è l'obiettivo di mercato. Il bomber dell'Apoel. E poi doppio assalto alla Roma. Inter con Manolas anche Nainggolan. Di spalle il mercato dello Feuil. Milan tifa Barsa. E poi semplici e bucchi c'è la fila. Nel taglio basso nazionale immobile più belotti. L'Europa ci invidia. Stasera invece il big match. Supertest in Germania. Hart guida l'Inghilterra. E poi ancora l'intervista ai medagliati Pellegrino, Goggia e Moioli. Tre assi per un trionfo. Questo per quanto riguarda i quotidiani sportivi nazionali. Noi adesso ci fermiamo per un break pubblicitario. Ma prima andiamo a vedere le previsioni del tempo con i nostri meteorologi di InMeteo.net. In Meteo 6. E poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Per andare ad approfondire le notizie dalla nostra regione sui quotidiani abruzzesi. Allora ci fermiamo. Ci vediamo tra poco. E allora eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo, come detto, alle notizie dalla nostra regione. Ripartiamo dalle pagine di primo piano del Quotidiano Il Centro. Fiamme gialle 2016 scovati in Abruzzo, 186 evasori totali. Bilancio di un anno del generale Agnello. Non è una regione di virtuosismo civico. Nel mirino della Guardia di Finanza, gli sprechi negli enti e negli appalti pubblici con una raffica di inchieste. Il fenomeno della contraffazione delle merci in forte ascesa ha sequestrati 14 milioni di pezzi. E poi ci sono tutti i dati diffusi dalle fiamme gialle nel corso della conferenza stampa. Ci sono anche diversi filoni di indagine che riguardano la percezione illecita di fondi comunitari. Imminente l'apertura della nuova caserma a Pescara, pronta sul lungomare. Poi l'Aquila e Ragix, ricostruzione. Le cosche pronte a fiutare l'affare. Il comandante regionale assicura controlli preventivi sulle provvidenze. Scoperti 24 milioni erogati in modo illecito. 10 interdittive antimafia. Questi i dati dell'attività svolta. E poi, senza voucher, più controlli sul sommerso. L'ufficiale spiega le iniziative che verranno adottate per frenare il lavoro nero, soprattutto in agricoltura. I territori maggiormente interessati a questo fenomeno sono quelli dove ci sono molte attività agricole. E tra questi la marsica, che è piena di braccianti stranieri. Così, Flavio Aniello. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda la nostra... Altre due notizie che riguardano la nostra regione. Sulla pagina di attualità del turco condannato per la tangente delle mele. Le motivazioni della Cassazione, le foto della busta con i soldi, sono una prova sul denaro mai trovato. Scusate, sono una prova sul denaro mai trovato. La sentenza afferma investimenti con ricchezze nascoste. Andiamo a leggere anche qualche passo dell'articolo di Pietro Lambertini. Tre tangenti e tra queste c'è anche quella della busta riempita di mele dopo la consegna dei soldi a Collelongo. Ieri la Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna per induzione in debita a carico dell'ex presidente della regione Ottaviano del Turco, 72 anni. Del Turco è stato condannato per tre episodi, un totale di 850 mila euro di tangenti ricevute da Enzo Angelini, l'ex re delle cliniche private. La stessa sentenza, con la formula dell'annullamento con rinvio, ha ordinato un nuovo processo a Perugia, solo per il reato di associazione per delinquere a carico di Del Turco, dell'ex segretario della giunta regionale Lamberto IV e dell'allora capogruppo della Margherita Camillo Cesarone. Un reato che finora per la Cassazione non è suffragato da una prova certa. La difesa di Del Turco, andiamo nella parte finale dell'articolo, ha sempre messo in dubbio la credibilità di Angelini, già condannato per bancarotta e le sue accuse mosse dall'astio di vedersi ridotti gli affari per i tagli fatti da Del Turco. Per la Cassazione, quell'astio d'appeso alle denunce. Certo che l'Angelini lamentasse di essere stato rovinato dai politici al potere nel momento in cui ebbe a rendere le sue propalazioni. Andiamo a vedere anche quest'altro focus. A Perugia, appello bis, come abbiamo letto per l'associazione a delinquere, non c'è la prova della sudditanza. Nella sentenza su Taviano Del Turco, la Cassazione dice anche che manca la prova della sudditanza delle cliniche private abruzzesi verso la politica. Andiamo ancora avanti, cambiamo argomento e andiamo a leggere anche quest'altro invece articolo che riguarda Bussi, che nella pagina dell'economia, il Tar boccia il ricorso, ma Toto ne propone un altro. Continua la battaglia della holding per l'annullamento del bando sulla bonifica, azione fondata su nuovi motivi, copertura ottenuta distraendo fondi per Tremonti. In parte ricevibile, in parte respinto, in parte inammissibile, il verdetto del Tribunale amministrativo del Lazio. La nuova azione si basa su ulteriori elementi, parte delle somme vincolate ad altri interventi e non dirottabili. E staremo a vedere che cosa accadrà. Andiamo invece adesso nella pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro, che abbiamo visto poco fa e che possiamo tornare a vedere. Guerra dell'acqua, la Norda si beve la Santa Croce. Ha giudicato il bando per la sorgente Sponga di Canistro, dopo le polemiche tra la Santa Croce del patron Camillo Colella e la regione Abruzzo. dagli anni Ottanta, sulle tavole degli italiani, la storia di un brand che nasce con la famiglia Faroni e viene pubblicizzato anche da Pippo Baudo. Viene ripercorsa in questo articolo. Ancora, la storia dei Pessina, tra editorie e costruzioni, nuovi gestori della concessione marsicana, controllano anche altri marchi, da Gaudianello a San Gemini, e stanno per salire al 99% del quotidiano. l'unità. Fuochi d'artificio e cena in piazza a Canistro, così i lavoratori hanno accolto la notizia dell'uscita di scena di Colella. Vedete le fotografie. Andiamo adesso, prima di passare alla pagina di Pescara sul quotidiano, il messaggero. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. il bimbo autistico trova una scuola, pupillo, un equivoco. Lanciano, la querella è risolta dal sindaco. Il bambino frequenterà l'adannunzio. I presidi insistono. Non è stato rifiutato. La mamma non si presenta al vertice in comune. Conferma, farò un esposto alla procura. E allora, andiamo a vedere insieme il servizio su questa vicenda. Non c'è stata malafede da parte di nessuno. Perché da una parte c'è una madre che ha una difficoltà a trovare una soluzione ai suoi problemi, vuole giustamente cambiare il comprensivo e fa un percorso che non è quello istituzionale. Nessun caso di discriminazione. Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ci tiene a precisarlo subito, prima di entrare nello specifico del caso del bambino autistico che sarebbe stato rifiutato dagli istituti comprensivi cittadini. La mamma, infatti, si era rivolta al primo cittadino qualche giorno fa denunciando quanto accaduto nell'atto del cambio della scuola per la prima media dal d'annunzio al Don Milani. Ufficialmente c'è un'iscrizione che si chiudeva online il 7 marzo. Il genitore ha avuto difficoltà ad effettuare questa iscrizione. Nel momento in cui ha tentato di farla il 10 marzo, chiaramente il sistema non gliel'ha accettato. L'unica inferenza, ecco, forse c'è stata proprio nella comunicazione, è che il genitore interessato avrebbe dovuto parlare, chiedere un colloquio con la preside e cercare di fare anche cartacea questa iscrizione. Cioè tutto qui. Nelle altre scuole dove la signora dice di essere andata non c'è traccia di questa iscrizione. Né cartacea né online. Questa mattina c'è stata una riunione in comune convocata proprio da Mario Pupillo per fare chiarezza sul caso a cui hanno partecipato i presidi e l'ufficio scolastico regionale. La domanda di iscrizione online non è stata presentata. Comunque in automatico il bambino resterà nell'istituto in cui ha iniziato il percorso di studi. Le scuole di Lanciano sono inclusive, sono capaci di rispondere alle esigenze. Il ragazzo in questo percorso di cinque anni ha avuto la massima disponibilità da parte del preside e di tutti i provvedimenti che le persone diversamente abili hanno nell'ambito scolastico e quindi percorrerà ancora la terza media, le tre scuole, le tre classi di media all'interno della D'Annunzio. E sull'ispezione ventilata da parte del Ministero dell'Istruzione Clara Evangelista rassicura L'ispezione, l'ispezione perché cosa? L'ispezione se è una scuola che funziona, ha l'organico di sostegno. La preside è una di quelle persone più sensibili al problema per una serie di motivi. Il territorio non ha dato motivo di avere delle problematiche né influenze esterne per cui ispezione è un'assolutamente no. Dunque questo è il servizio su quanto accaduto ieri a Lanciano. Restiamo sempre sull'argomento. Il colloquio con la Presidente dell'Associazione delle Famiglie che hanno bambini autistici e Alessandra Portinari dice taglie e diagnosi il calvario di noi genitori. La Presidente punta il dito sulla riduzione del sostegno e altre carenze. Andiamo ad ascoltare insieme l'intervista realizzata da Francesca Romana Testi e proprio ad Alessandra Portinari. Sul caso del bambino affetto ad autismo che a Lanciano ha avuto difficoltà a essere inserito in una scuola lasciando da parte la polemica c'è da fare qualche riflessione sullo stato attuale anche del servizio reso dalla scuola pubblica italiana? Sì, innanzitutto c'è da dire che c'è il diritto allo studio quindi questo bambino sicuramente dovrà andare a scuola e dovrà essere inserito nel contesto scolastico però ci sono delle forti contraddizioni perché sebbene la scuola italiana sia all'avanguardia sull'accoglienza, sul mondo scolastico però poi dall'altra parte c'è una carenza dal punto di vista della formazione degli insegnanti di sostegno purtroppo coloro che si preparano lo fanno magari in maniera autonoma quindi la scuola non è pronta ad accogliere nel migliore dei modi i ragazzi autistici così come ci sono delle forti contraddizioni sulla diagnosi precoce oggi si parla tantissimo di diagnosi precoce per avere poi un adulto per avere dei ragazzi più autonomi, più indipendenti però poi al momento stesso oggi si fa una diagnosi precoce a 2-3 anni rispetto a prima però poi le strutture hanno liste di attesa lunghissime per accogliere questi ragazzi Può fare una stima indicativa di quante famiglie in Abruzzo abbiano un figlio affetto d'autismo? Al momento in maniera ufficiale no perché purtroppo il fa bisogno è proprio quello che manca attualmente alla regione Abruzzo e quindi si sta facendo un tavolo dalla parte dell'agenzia regionale sull'autismo al momento manca il fa bisogno sia per i più piccoli sia per i più grandi una cosa importante è che i ragazzi quando arrivano a 18 anni oggi sono inesistenti per la società perché non ci sono strutture adeguate ci sono molti ragazzi costretti ad andare fuori regione perché non ci sono dei residenziali capaci di accoglierli Andiamo avanti, cambiamo argomento restando sempre alla pagina Abruzzo del messaggero l'Abruzzo tradito da Gentiloni scontro in regione su emergenza sisma e neve in aula i cartelli dell'opposizione Cratere ed Alfonso replica le accuse buone le risposte dello Stato duro scontro in consiglio regionale sulle misure per la gestione di emergenza e ricostruzione post terremoto la miccia l'accesa e il centrodestra in apertura di seduta presentandosi in aula con un vistoso cartello sisma e neve Abruzzo tradito da D'Alfonso e Gentiloni Andiamo avanti adesso con la lettura sempre dei giornali regionali torniamo sul quotidiano Il Centro andiamo ad aprire la pagina di Pescara l'opera da 40 milioni il soprintendente va via e il nuovo stadio si blocca il trasferimento di Di Gennaro a Sassari fa saltare il permesso atteso da mesi quattro mesi e mezzo non sono bastati per avere un semplice parere tecnico sul progetto del nuovo stadio adriatico Cornacchia ma ora i tempi rischiano di farsi ancora più lunghi perché responsabile della soprintendenza alle belle arti e paesaggio d'Abruzzo Francesco Di Gennaro dopo nemmeno un anno dalla nomine è stato trasferito su sua richiesta e con le stesse mansioni agli uffici di Sassari Olbia Tempio e Nuoro così ora l'organo ministeriale abruzzese guidato ad interim in attesa di una nuova nomina da Roma da Aldo Giordano Pezzi funzionario del Dipartimento questo per quanto riguarda il nuovo stadio adriatico l'iter non si ferma entro una decina di giorni andremo al Ministero dei Beni Culturali per sollecitare un parere sul progetto questo dice l'assessore Giuliano Diodati del Comune di Pescara restiamo sempre al Comune di Pescara una notizia un po' più politica PD vertice per evitare lo strappo Ciafardini una riunione per la scelta del Presidente del Consiglio slitta la nomina di Blasioli invece a Vice Sindaco e dunque Antonio Blasioli che ha lasciato scoperta la poltrona di Presidente del Consiglio Comunale c'è una lotta a due fra Marco Presutti e Francesco Pagnanelli oggi come vedete in questo approfondimento il Ministro Martina ha a Pescara in programma alle 18 l'incontro nella Sala Consigliare del Comune per la campagna congressuale restiamo ancora a Pescara la sosta dell'area di risulta si paga anche la domenica proteste degli automobilisti per il parcheggio è diventato a tariffa anche nei festivi ma l'amministrazione comunale si giustifica e solo per il periodo dei saldi nel Taglio Basso terminati i lavori in via Rapietra a casa di riposo bonifica conclusa Pignoli ora si pensa a riquarificare l'edificio per gli anziani e poi Tribunale nel Mirino di Striscia la notizia inchiesta di Moreno Morello sulle spese per il Palazzo di Giustizia ieri il giornalista è stato a Pescara nel Taglio Alto di questa pagina la procura apre un'inchiesta dopo l'esposto degli ambientalisti taglio degli alberi pericolosi indagati un dirigente e un funzionario del Comune questa notizia la possiamo vedere in maniera più approfondita sulla pagina di Pescara sulla prima pagina di Pescara del messaggero allora andiamola a recuperare eccola qua pini tagliati l'inchiesta si allarga c'è ancora molto da fare dice Angelozzi della Forestale possibili sviluppi degli esposti firmati dagli ambientalisti non so cosa mi venga contestato dice l'ingegner Rossi il dirigente comunale indagato con il funzionario Caudullo è stata tutelata l'incolumità pubblica sono le reazioni solidarietà del sindaco e dipendenti coinvolti loro hanno agito bene ma c'è chi è malato di denunce l'assessore Di Pietro dice va fatta chiarezza torniamo adesso sul quotidiano il centro e andiamo a vedere le altre pagine di Pescara scontro in tribunale asse attrezzato crollato prima richiesta di danni nessun indennizio a due anni dall'eccedimento una ditta fa causa ad Anas e Comune ricorderete il crollo dell'asse attrezzato che tanti disagi ha provocato alla circolazione poi SOS per il porto silenzio su tutte le opere promesse gli operatori turistici e commerciali scrivono a regione comune antimarittimi in grave ritardo dragaggio taglio della diga barriere soffolte così affondiamo questo è l'ennesimo grido d'allarme lanciato dagli operatori commerciali del porto e poi nel taglio alto domani i lavori dell'ACA in via Firenze manca l'acqua in centro protestano i sindaci intervento di riparazione e polemiche andiamo andiamo avanti tragedia in autostrada travolta uccisa sulla 14 dopo l'incidente la vittima a 59 anni di termoli era scesa dall'auto per chiedere aiuto nel tratto tra città Sant'Angelo e Silvi tre sono stati i feriti di questa tragedia purtroppo e poi ancora nel taglio basso tentano furto in via Milano rubano carne al Conad e picchiano i dipendenti sono stati catturati e poi spacciava asci sciagli sciatori a Serra Monacesca aveva una coltivazione di manuana e altre droghe è stato arrestato torniamo anzi cambiamo argomento restiamo sempre alle pagine di Pescara bentornata primavera un migliaio di ragazzi alla nave di Cascella per il filone di massa in spiaggia tanti studenti provenienti anche da fuori città una mattinata senza lezioni per festeggiare la bella stagione ne vedete le fotografie passiamo alla pagina ora di Montesilvano traffico in sicurezza la polemica il semaforo spilla soldi a proda in consiglio venerdì in aula si parlerà delle fototrappola tra Corso Umberto e Viadige che hanno prodotto 11.500 multe emozione dei 5 stelle va installato un timer poi vedete sorpassa il camion dei rifiuti con le quattro frecce ripreso e multato nessun sconto al semaforo di Viadige è stato multato anche un automobilista che a semaforo verde stava sorpassando un camion della netterza urbana con le quattro frecce accese la polemica ad Alonso il PD rinnega Ruggero e poi lo difendere stando sempre a Montesilvano questa polemica del ridicolo io non ho mai tolto niente a nessuno così il consigliere ne ad Alonso intervene in merito alle rimostranze sollevate dal collega di gruppo Lino Ruggero che lamenta di non poter partecipare alle commissioni consigliari da oltre un anno andiamo nel taglio basso IMU sui terreni edificabili prezzo unico il comune stabilisce una cifra a metro quadro retroattiva per recuperare i tributi non pagati dal 2000 restiamo sempre alle pagina di Montesilvano ma allargandoci anche all'area metropolitana torna la banda dei garage a caccia di bici da corsa mentre gira ancora l'appello su Facebook per recuperare la bianchi del ciclo amatore morto i ladri tornano a Montesilvano 12 box ispezionati per rubare un mezzo da 7000 euro e poi a Città Sant'Angelo piscina e Centro Fitness il comune dona l'area e ancora Pianella troppe buche stop a moto e bici contestati il divieto posto a Villa 9 Cerratina il limite a 30 all'ora c'è un approfondimento sulla MotoGP che potete vedere naturalmente acquistando il giornale noi andiamo rapidamente avanti anche per motivi di tempo e passiamo alla pagina di Francaville dell'area metropolitana intervento della soprintendenza Sirena bloccato il piano di demolizione messo in campo dall'amministrazione comunale i beni architettonici avviano la verifica per un eventuale vincolo deluso il sindaco ancora una volta ha vinto la burocrazia e vedete l'attuale piazza Sirena con il palazzo e invece il progetto della nuova piazza in cui resterebbe soltanto l'auditorium che attualmente si trova alle spalle dell'attuale palazzo Sirena che l'amministrazione vorrebbe abbattere le reazioni sarchese dei 5 stelle un referendum sarebbe stata la giusta soluzione così il rappresentante dei grillini abruzzesi e scusate francavillesi sempre a francavilla a mare sposto contro gli scogli fai da te denuncia ambientalista sulla barriera eretta vicino alla battigia e poi ieri un'auto si è ribaltata vicino al casello dell'A14 c'è stato un ferito in maniera lieve la pagina di penne popoli dell'alta valpescara appena il governo concede 500 mila euro prima tranche di finanziamenti promessa dal sottosegretario boschi dopo l'esclusione della città dal cratere sismico e poi pronta la nuova tac sempre appena acquistata tre anni fa e a manopello palestre scolastiche e scontro sulle tariffe obbligatorie andiamo sul messaggero per vedere le notizie dalle altre province allora andiamo a recuperare le pagine che ci interessano iniziamo dal capoluogo l'Aquila cinta muraria a Portaleoni liberato il tratto ostruito riaperto il varco il varco delle tavole bloccano solo momentaneamente il passaggio grazie a un accordo tra soprintendenza e privato e non c'è stato bisogno di ordinanza e poi nel taglio basso bimba aggredita da Rottweiler tre sono gli indagati nell'inchiesta aperta dalla procura il PM d'Avoglio contesta il reato di lesioni colposi gravi al padrone del cane a chi lo custodiva andiamo avanti turismo 200 tour operator tedeschi a caccia di bellezze la città ospiterà la convention annuale di un grande gruppo l'obiettivo inserire le peculiarità della regione negli itinerari turistici e poi Luna Rossa Aquilano compra una barca e ancora Acqua Nostrano top in Italia oggi la giornata mondiale di Benedetto della GSA qualità ottima delle analisi la pagina di Avezzano sul Mona maestro di sci muore sulle piste avrebbe avvertito un malore mentre stava percorrendo il tratto che collega Pizzalto alla Remogna per poi cadere rovinosamente Giuseppe Petrocco 61 anni da pochi giorni era assai conosciuto a Scanno presideva il gruppo di volontariato di protezione civile sempre a Avezzano donna stuprata in palestra maggiori controlli da parte della polizia andiamo rapidamente avanti passiamo alla pagina di Chieti università rientra all'allarme vacca firma sì agli stipendi in mattinata il decano riceve dal ministro la mail che fa tirare un sospiro di sollievo all'Ateneo riprendono le normali attività oggi c'è il Senato domani tocca al CDA e poi notti violenti aggressioni di Natale un giovane nei guai scatta la prima denuncia dopo le indagini della polizia accusa di lesioni in concorso per quanto riguarda le banche la nuova Carichietti trattativa serrata su 70 esuberi nel taglio basso le opere trovati altri 4 milioni ora la funivia si può realizzare passiamo invece alla pagina di Lanciano Vasto Ortona Sevel quattro problemi da risolvere la FIOM chiarezza sul divorzio da PSA gli aumenti produttivi le sbandierate assunzioni e il servizio di trasporto dei pendolari salari fermi danni e dipendenti costretti a turni massacranti per aumentare un po' la paga il numero dei lavoratori è sceso così il sindacato che chiede un tavolo di confronto con l'azienda e poi cattive condizioni igieniche in asse chiudono il mercato è accaduto a Dortona a Lanciano maxifurto di computer allo scientifico a Vasto un inseguimento sulla 14 si è concluso con un arresto e dei feriti con la polizia che è stata speronata adesso passiamo a vedere le notizie dal Terramano e dunque andiamo ad aprire le pagine interne della città il quotidiano della provincia di Teramo terremoto chiesto all'Europa di farci da madre il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi interviene all'Europarlamento Tajani assicura 2 miliardi per la ricostruzione questa è la nuova buona notizia che arriva da Bruxelles e poi abbiamo visto prima la protesta in consiglio regionale sempre sul terremoto restando ancora le cronache di Teramo via libera alla trasformazione dell'ex rettorato domani la presentazione del progetto per la casa dello studente dell'Adsu andiamo ancora avanti sbanca il totocalcio e vince appena 223 euro medico terramano appassionato della schedina c'entra un 14 qualche anno fa sarebbe diventato miliardario totocalcio che è caduto un po' in disgrazia soppiantato da altri giochi e poi l'università di Teramo un poliambulatorio medico per gli studenti al campus di Colleparco e per quanto riguarda l'ambiente il forum delle acque accede agli atti della contaminazione la prossima settimana conferenza stampa sui problemi nei laboratori del Gran Sasso andiamo avanti avanti tutta con gli eventi domenicali in città dopo il successione della fiera di San Giuseppe l'assessore Canzio punta sul parco fluviale ancora silenziati i rilevi della Corte dei Conti il consigliere Berardini dei Cinque Stelle svela le bacchettate al bilancio 2014 il Comune avrebbe dovuto informare il Consiglio e per quanto riguarda la politica Alberto controlla la nuova giunta a nove assessori e poi c'è il restyling del corso prove tecniche per la posa della nuova pavimentazione andiamo in provincia Moreno Fieni verso la presidenza del BIM il portaborse di Sandro Mariani alla Regione il candidato che mette pace nella segreteria del Partito Democratico andiamo rapidamente avanti sempre nelle notizie in provincia andiamo a vedere qualche altra qualche altra informazione passiamo alla pagina di Giulianova Emosciano Giulianova un'altra bocciatura sul verde la denuncia del Conalpa devastato il patrimonio arboreo della città ancora avanti cambiamo pagina passiamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi l'unica salvezza per il pontire il project dalla Regione il solito fumo negli occhi pavone critico sul progetto da mezzo milione dell'amministrazione di Girolamo ancora avanti vediamo se c'è qualche altra notizia andiamo a Notaresco l'Enel si rifiute di allacciare la corrente elettrica da quasi otto anni l'odissia di una famiglia di guardia vomano che dopo domani sarà costretta a lasciare la sua abitazione passiamo adesso allo sport regionale dunque apriamo la pagina dell'Abruzzo Sport del quotidiano il centro contro le Big Pescara curvi a 25 euro i tifosi attaccano il club ritoccati i prezzi dei biglietti contro Milan Juventus e Roma all'inizio della stagione la società aveva fissato in 20 euro il costo del biglietto dei settori popolari ieri l'aumento che fa discutere vedete tutti i prezzi per quanto riguarda queste partite tanto attese dai tifosi pescaresi caro biglietti in Serie A quando arriva la Juve al Botteghino si fa festa ovviamente c'è tanto interesse per vedere la squadra allenata da Allegri andiamo in Lega Pro il Teramo e Campitelli il futuro può attendere prima c'è la salvezza il patron sceglie la strada del silenzio per non alimentare ulteriori polemiche i biancorossi pensano al Mantova per dare continuità al successo con il Gubbio per quanto riguarda il Teramo andiamo a vedere anche cosa scrive la città sulla squadra di Ugolotti e allora modulo e gol così Ugolotti ha riscoperto il Teramo con il sistema di gioco attuale anche giocatori adattati rendono meglio la difesa tiene e Mantova non fa più paura meno otto alla fine la vittoria ha riacceso le speranze di salvezza diretta per i biancorossi e Ugolotti ha messo a punto una difesa che sotto la sua gestione per la seconda volta non ha subito gol andiamo ancora avanti andiamo a vedere le altre notizie torniamo dunque sul quotidiano il centro la serie di Ciotti ecco il pararigori del San Nicolò il portiere romano respinto cinque tiri dal dischetto tre in campionato e due in Coppa il bomber dei dilettanti tra i personaggi quando segna Terriaca la miternina fa risultato e andiamo al basket di A2 le abruzzesi del girone Est Sherrod segna e canta per Roseto l'americano decisivo nel derby inciderà un CD con due musicisti i tifosi degli Sharks Sergio ricarica la Proger nel calcio dei dilettanti paterno all'assalto per la semifinale nella Coppa Italia di eccellenza canistro contro il Tortolì dopo il 4-4 dell'andata nel taglio basso la campionessa italiana Junior Caratela di Loreto ai campionati europei e poi per il pugilato il pescarese dell'Ellis venerdì sfiderà Perugino questo per quanto riguarda lo sport regionale sul quotidiano il centro andiamo rapidamente a vedere anche l'Abruzzo Sport del messaggero Pescara ora niente soldi dirigenti rientrati dall'Uruguay Bancoschi ottimista contattati molti imprenditori ma per ora nulla di concreto Mesa resta fermo al 10% delle quote ma si rafforza l'asse con i Wonders soprattutto per il settore giovanile questa è la notizia che riguarda il Pescara poi troviamo il basket di A2 Roseto in fermeria piena dopo la festa derby Casa Grande Piazza May e Fulsa ancora fermi e sabato c'è il big match con la fortitudo altre notizie Terramotto partite per salvare il salvabile per la Lega Pro in Serie D Peluso sono rimasto per onorare la maglia la punta dell'Aquila d'ora in poi proviamo a vincere tutte le gare e poi il calcio a 5 Duarte Pescara prenditi la coppa l'anno scorso con la maglia dell'Asti fu sconfitto in finale proprio dai biancazzurri Ola ora scusate vuole riprendersi la rivincita ancora calcio a 5 l'acqua e sapone prepara al debutto si prepara al debutto contro il caos questo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa che termina qui mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7 mentre la nostra informazione oggi è come di consueto con il TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata a Grazie a tutti Grazie a tutti